E li sentiti, che puoi me lontan... E' scudato quello, è scudato... We're in control... We're in control... We're in control... Ecco che era pezza? E' questa cosa, rapaz! E' questa cosa, rapaz! No, non so se... Ci ha interrogato bene? Minchia, vicende alla dal... Mace. Troppa gente, non mi piu' troppo gente, troppo gente, troppo gente, vengo qui! Però non, fammi passare, fammi passare! Fammi passare, fammi passare, fammi passare! Non c'è niente, togliti! Facciare! Sì Tieni le munizioni, scappa 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 Lo sciolto Sta tirando la granada Colpi piccoli Luca, colpi piccoli Non ho colpi Lo vedo, ma stupido Dittato Non ho colpi piccoli Eh, tieni qua, tieni il diamante Ne ho quattro, ne ho quattro Ne ho 30 dentro Eh, dammi un caricatore Eh sì, quello è il dono Sono quello, è lui E' quello che è il dono Quanti ne hai di pompa tu? Uno Ah, ne ho colpi di pompa di servo Mmm, è un caricatore Tu? No, no, no Abbiamo fatto due team L'ho cercato alla corsa Nooo L'ho cercato alla corsa Ma non è possibile però Adesso lui l'ho attaccata io Vendetta, vendetta, vendetta Vendetta Stupido 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 Bastardo Mi ha toccato la corsa Stupido 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 Hai visto che ti avevo indicato Quello l'ho attaccata anch'io Sì Sì, ma non è giù Ma queste cose si attaccano troppo Un po' Stupido Mi ha preso il moto Mentre saltava Che cazzo è? Ti faccio un attaccio? Oh Oh Onde cazzo ti ti investi a lo con? Non so Salgo un po' Salgo un po' Aia Se tu hai contro lui Troppo capito Oh Oh questo raggio Torni a su in casa Torni a su 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 Potremmi Torni a tutta blu Ti ho messo il mio Ro Sì 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 È stupido Vieni Torni a su Torni a su Che mi ha preso quello sotto Cioè Piccolissimo L'ho ammazzato Qui sopra La cittola Scemi Che scemi E mi che sono scemi Oh dobbiamo correre No Dobbiamo correre No Pure io ho ben otto colpi Tutti tanti Vieni qui Hai giù tanti tutti e due No Uno no Minchia la mitrighetta nuova blu Alla So anch'io L'altro cosa doveva? Niente Ma non manco materiale No no Niente No No Io ho il due vende se vuoi Sì 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 io lo arriviamo Non credo no Ciao mori miei Oh che cazzo Sì Ciao mori miei Ma se mi inviti Ti cazzo mi inviti allora Amore mio Oggi ho detto basta Quando vado online Non mi sento più Luca Sì 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 Ma no Un lavoro Ma eh no Ti brivido è pub destroyer tipo no Drivido o smoker Eh Mh Mmh Buppa 600 Compa Cioè è il mio amico qua di zona Ma è scarso dai È pub destroyer Ma lo conosco eeeh ma non ho avuto amico ma io conosco solo qui ah e di chi era un po' quello non so amici per te no 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 ti dico di no è un po' un po' ritardato è capito si è un po' ritardato che c'è in marchesa grazie oh io ti ho detto che oggi non voglio litigare con te ma che fosse lasciata la vendita no puoi dire più favore poi puoi parlare almeno oppure non parlare io sono imparata dai farsi sommetti che se mi trovi davanti metti in ginocchio pure e bacino i piedi libbi mando e me li mangio se qua di siracusa no? no? si vabbè 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 ma pete non pete cito la canna che l'ha scritto oggi e cosa? no ma pete avrà una video e lì luca c'è uno oi ho finito i colpi di misericordia ma che fatti che ti ho diventato un po' ma è una coglione si è chiuso dentro con me lo c'è che c'è che minchia è che c'è 600 colpi ne avevo 6 prima adesso ne sono 600 io ne ho 40 dammene un po' dammene un po' ma plebei di buon cane valla adesso che c'è più di concenza vi dica una cosa su Fede vai sei pronti? si si pronti? hoallasco con la palla è il nipote di Moratti si si Il nome è il mio Sì Delle dell'inverso Che cazzo ne sto dicendo? Stavo giusto Vabbè è il nipote quindi non è Stavo scherzando Non lo so Ditti una cazzata Stavo giusto Luca ma nessuno aveva a vendere o ce l'hai? Certo che sto a vendere Pensa su Quando giocavo a code Nel team Beh adesso non giovo più No no a parte gli scherzi Te l'ho detto anche ieri Nel team adesso non ci sto più giocando Però ancora il team è così C'ho Un ragazzo che è il figlio Cioè il figlio del Cioè il maggiore azionista Della E uno che ha A Parma c'ha tipo Quello che ti dicevo che Giocava Clash Il padre a Parma c'ha Non so quante litte d'edilizia C'è una cosa sua Cioè quello del livello del cat è molto più ricco che Ok però Facevamo i raduni che tutti loro pagavano Tutti loro pagavano Poi le mamme puttane Pfff Minchia ma che fighe eh tutte le mamme Pfff 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 Comunque gli utenti stiamo vincendo un sacco di due Adesso di voi e prendiamo tutto Pfff Che cazzo Pfff Vieni shield qui André Si si Vieni shield Vieni shield Vieni shield Vieni shield Se vuoi si può fare una gem potenziata eh Aspetta aspetta Pita 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 Fattura 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 Vieni shield Buttare a tracci Quarto c'era Quarto non c'è Quarto non c'è Però diciamo che è da stamattina che dice Oh chi viene chi viene u ho visto ho visto ho visto View stasera faccio tanti Che cosa Non suonenta E' volato Andate l'altro Ho mi vengo eh A 30 Ma se vabbiamo le abbiamo anche tolto all'oscuro chiama non c'è canata a uno lo vado li vado li vado sono lontani, vai a quello a sinistra puntiamo la città si si lui 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 qui qui dietro altri bastardi quelli d'ambiccosa quelli scudini si vuoi giampare? no va ammazziamoli li ha sparato dal tunnel del corso non c'è canata aspetta fai me le canate sai canate aspetta attento no 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 non c'è no vola del cori che culo che culo non c'è l'uco si è sparato non c'è non c'è non c'è che sia l'uco Sì, c'è l'altra Un team da due, ci sono tutti L'altra, l'altra L'altra, l'altra L'altra, l'altra 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 5 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 Un po' tengo... Oh, Luca, c'è qui! Allontanati, tipo... Ecco tutto, ecco tutto Nooo T'è posto Ciao, amore mio Nooo Ogni volta che entro il pod fa... No, ragazzi Guarda, ti diamo il party Guarda, lui Ma qua sotto, è morto, è morto, vai 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 E' vero che sei il figlio di Moratti C'è il figlio, il nipote di Moratti No, ci siamo fatti tre timi tutti qui, quasi Ma hai visto quando siamo guardati insieme? Nella... nel Mura Ho riusciato una pompata addosso mentre volavamo Io, ma vedi che è il lanciagranate E' il lanciagranate che mi ha spammato prima quello Perfino E mi ha ammattato Eh... Sono usciti tutti i colpi tipo... Non so fono E' un casino Metti il falò, metti il falò Ehm... no, ha fatto il medico Certo? No, ho riuscito il medico che mi stavo facendo Ehm... Lei ce l'ho un altro falò Ehm... io non ce l'ho il falò, comunque C'è una gialla Ah, vabbè, allora... Vabbè, allora... Vabbè, allora... Vabbè, allora... Vabbè, allora... Vabbè, allora... Vabbè, io prendo il medico Vabbè, no, aspetta, c'era quello che ho là, là sopra Avevo visto Sì, ma mancano un po' un sacco di tempo Mi ha finita un cazzo No, mi ha fatto Abbiamo fatto un sacco di kill, cioè Io 9, tu... 5 5 No, questo è scarico La spavola La spavola La spavola La spavola Quindi, quel caccia mio ha... Gli ha fatto il pelax E' due quelli la Lì su Ehm... Assurdo Ehm... 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 Da sud, da sud Da sud Di su, di su Se vuoi jumpare, sai che abbiamo... Una jumpa a testa Eh, lo so però... Però... Un bomb... Tieneva per scappare... Non lo so Va, va, va Ti sto mettendo eh Ti vedo Una è ferma Una è qua ferma Ah, una a destra Un bim a destra Ok Un bim a destra 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 Sì, sì Mi giampo via io Quanto è blu hai? 8 8 E' cazzo tutti i raggi fuori Oh, sto qui dove l'ho Sto qui dove l'ho tirato Sto qui dove lì si è fatti questi quattro Finito o no? No, sono 18 kill Di te che non abbiamo neanche iniziato No, mi servono raggi, Mim Quanto siete e quanti rimasti? 9 9 9 kill 9 kill e 9 rimasti Faccio Non c'hai cosi raggi? Mmm, sì Quanti ne hai? Ok lanciarmiata con 8 polpi Eh, la tieni ancora La tieni ancora Ma non so se abbiamo evitato questi Una è morto più in qua Qua, qua, qua Oh vieni qua, ci sparavano da sud tipo Anche Oh, eccolo Qua è un altro lanceraggio qui L'ho squagliato che mitraglietta Oh, lanceraggio io, lo prendo Il valore Mi piace sia da mi piace Mi piace Che don't È tutto ciò Luce mi sono? Luce pa? Questo è il valore No, è un valore Questo è il valore Questo è il valore Questo è il valore Si, ma non rischiai a venire Il valore lecce un portino di portato farci siamo a 19 kg comunque cosa che se vi facciamo tutti noi facciamo il regolo di notte ma andiamo c'è una cosa in tutto stanno spagando non lo vedo non c'è niente l'impatente il suo amico è qua non lascialo passare agli altri oh grazie lascia unico a luca lascia unico a mi comando luca aspetta aspetta dai buon dai buon miiiiit l'ultimo no l'ultimo no l'ho serrata oh bella 15 kg 25 kg 25 kg abbiamo fatto il record il record nostro 25 kg bellissima il minuto c'era ieri di sera no ah è vero che non c'era ieri ah no quanti danni lo c'ho biglian aspetta aspetta che lo faccio le vado in duomo si 26 es mani sera c'è allora ho fatto io di danni 2660 danni 2394 vabbè 434 subiti 486 ieri 288 io proprio si metodiana lecce eh no subiti e mi ha fatto le cavi il minuto 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 e andre ma devi fare qualcosa per il canale eh 5.600 Grazie a tutti.